Per la tua pubblicità in questo programma, chiama Eda Communication al 333-7658-881. Cosa aspetti? Contattaci www.edacommunication.it La tua vetrina digitale a portata di tutti. Segui Eda Communication su Facebook, Instagram, YouTube www.edacommunication.it Questo programma è sottotestata giornalistica, iscritta regolarmente al Tribunale. Rispondi al nome di un editore e un direttore responsabile. Una produzione Eda Communication and Events Ben ritrovati, nuovo appuntamento di Conosciamo i Candidati, format nato per conoscere meglio i candidati al Consiglio Comunale del 2024. Tra poco in questa poltrona siderà Giuseppe Gallo, candidato al Consiglio Comunale nella lista autonomisti per Gela, a sostegno di Terenziano Di Stefano Sindaco. Prima la sigla. Lui ha 28 anni, è un impiegato e ha deciso di candidarsi a sostegno di Terenziano Di Stefano Sindaco nella lista autonomisti per Gela. Questa sera conosciamo Giuseppe Gallo. Ciao Graziano, salve a tutti i telespettatori. Come sempre con i nostri ospiti iniziamo rompendo un po' il ghiaccio, quindi ci racconti chi è, che cosa fa nella vita e perché ha deciso di candidarsi al Consiglio Comunale a sostegno di Terenziano Di Stefano. Io sono Giuseppe Gallo, ho 28 anni, laureato in ingegneria e responsabile tecnico presso l'albo nazionale gestori ambientali. Ma prima di tutto sono un giovane gelese che ha a cuore Gela e a cuore il rilancio del proprio paese. Sono un giovane che ama le sfide, la candidatura è la mia ennesima sfida. E' una sfida per tutti quei giovani che come me vogliono che Gela si cambi un po' il registro e quindi si possa sviluppare. La mia candidatura è nata grazie a Valeria Caci, che ho conosciuto diversi anni fa attraverso la cooperativa Carpe Diem. Grazie a lei sono entrato in contatto con il Movimento per Autonomia e ho conosciuto persone per bene, quali l'avvocato Ivan Liardi e il dottore Rosario Caci. Da subito loro hanno innanzitutto ascoltato ciò che io e il mio gruppo giovanile avevamo da dire e diciamo che insieme abbiamo scelto di sostenere Terenziano Di Stefano perché abbiamo apprezzato fin da subito la sua visione a lungo termine e soprattutto la sua capacità di ascolto, perché personalmente Graziano ritengo che l'ascolto sia fondamentale in politica, è quello che troppo spesso è mancato. Insieme abbiamo stilato un programma, un programma incentrato sulla partecipazione giovanile, un programma incentrato sullo sport, sull'istruzione, la sanità e sul rilancio di Gela che sia un rilancio a 360 gradi partendo appunto dal decoro urbano, passando per la sicurezza, per l'istruzione e soprattutto incentrato appunto sui giovani, sulla partecipazione dei giovani e dei cittadini sulla riduzione delle distanze che ci sono sempre state tra il comune e la popolazione. Hai parlato di rilancio, come e attraverso quali punti salienti del vostro programma elettorale? Appunto innanzitutto secondo me, secondo il gruppo, secondo il piano Gela il rilancio deve partire innanzitutto dall'esterno, ovvero dobbiamo rendere Gela più attrattiva dobbiamo riportare i turisti a Gela bisogna partire dal decoro innanzitutto urbano, anche se è paradossale nel 2024 parlare di decoro dobbiamo appunto rendere Gela più attrattiva l'abbiamo fatto silando un programma puntando sul turismo in diverse pagine si parla appunto di turismo l'abbiamo fatto parlando con specialisti nel settore turistico anche di città come Ragusa, Siracusa diciamo che oltre al decoro urbano è importante garantire un alto livello di sicurezza perché i cittadini, non solo i celesi, anche i turisti devono sentirsi tranquilli e sicuri di passeggiare nel centro urbano infatti un punto importante secondo noi è il presidio di polizia nel centro storico compresivo di polizia e oltre appunto a questo bisogna garantire pulizia nella nostra città anche se come è paradossale parlare di decoro è paradossale parlare di pulizia perché Gela purtroppo è stata troppo spesso sporca bisogna secondo noi innanzitutto partire dai quartieri marginali quindi praticamente installando delle isole ecologiche nei quartieri soprattutto marginali è rafforzando la videosorveglianza, questo non solo per combattere la criminalità ma anche per combattere gli ecovandali oltre questo parliamo anche di commercio quindi creare dei tavoli con le associazioni di categoria quindi sviluppando anche il commercio e valorizzando come ho parlato poco fa di quartieri marginali dando tanto più ascolto ai comitati di quartiere l'ultima riunione dei comitati di quartiere risale addirittura a febbraio 2023 se non ricordo male quindi è una cosa che ci sta abbastanza a cuore perché dobbiamo partire dal basso, partire dai quartieri rigenerare appunto Gela dall'esterno fino al centro quindi dai quartieri marginali fino al centro storico sei un giovane che ha deciso di candidarsi in un momento in cui i giovani hanno un po' perso la fiducia nella politica e questa tornata elettorale ce lo dimostra con tanti giovani che non vogliono neanche andare a votare secondo lei a cosa è dovuto? Allora secondo me i giovani hanno perso la fiducia perché per la scarsa trasparenza soprattutto perché purtroppo la politica si è mostrata innanzitutto poco trasparente nei confronti dei cittadini in generale ma soprattutto nei confronti dei giovani i giovani non si sentono rappresentati rappresentati dal Consiglio Comunale e reputano come se la politica, i politici, la vecchia politica non abbia veramente a cuore le esigenze di noi giovani perché siamo giovani appunto anche noi diciamo si sentono scarsamente rappresentati questo porta a una mancanza di fiducia nei confronti dei politici, della politica locale si sentono oltre a poco rappresentati quasi abbandonati perché come se la politica non abbia veramente contezza delle preoccupazioni, delle problematiche di noi giovani quali l'accesso all'istruzione, all'occupazione avere spazi a disposizione per l'aggregazione culturale aule studio, spazi co-working diciamo che noi giovani ci sentiamo quasi trascurati e questo porta a scarsa fiducia addirittura molti non si regheranno neanche a votare io ne ho sentiti tanti durante questa campagna elettorale poi teniamo anche conto che in questo periodo è un periodo che quasi giornalmente si assiste a scandali della politica ovviamente non parlo di politica locale parlo di politica regionale e nazionale però noi giovani non abbiamo più, non ci identifichiamo più in nessun partito o in nessun politico in genere tutto questo appunto crea scarsa fiducia quindi bisogna dare valore ai giovani bisogna capire che la rinascita deve assolutamente ripartire da una partecipazione giovanile nella politica un ricambio generazionale un ricambio generazionale appunto parlavo qualche giorno fa secondo me la politica, la vecchia politica deve avere contezza, deve capire che ormai è necessario un ricambio generazionale ovviamente graduale nei tempi non deve essere un ricambio rapido, drastico perché abbiamo necessità anche dell'esperienza della politica giovani e lavoro tantissimi scappano da questo territorio per lavorare e trovare occupazione in altre regioni e anche in altri stati e allora cosa si può fare per rilanciare l'occupazione locale gelese di questo territorio e fermare questa emorragia? Allora è preoccupante il dato a cui assistiamo sempre più giovani lasciano gel c'è chi lo fa inizialmente per motivi di studio e c'è chi lo fa per motivi di lavoro ovviamente questo non è un fenomeno nato ieri è un fenomeno a cui assistiamo da sempre questo soprattutto per la mancanza di un'università a Gela però il fenomeno a cui stiamo assistendo in questo ultimo periodo è che quello del non ritorno a Gela cioè Gela non riesce ad essere attrattiva come dicevo poco fa i giovani non credono più nel progetto Gela non credono più in Gela quindi non fanno più ritorno a Gela allora noi dobbiamo innanzitutto secondo me supportare l'assessorata alla gioventù in collaborazione con la consulta giovanile che da troppo tempo è praticamente rimasta inascoltata tu ne sai più di me con quale scopo? con lo scopo di innanzitutto accogliere le istanze che vengono da tutti i giovani portatori di sane di proposte al fine di creare creare che cosa? creare occupazione creare spazi di aggregazione non smetterò mai di dirlo purtroppo mancano questi mancano strutture sportive tutto questo secondo me può essere aiutato oltre al supporto dell'assessorato e alla consulta giovanile con la creazione di uno strumento importantissimo che è quello dell'informa giovani l'informa giovani è uno strumento che secondo me darà aiuterà al rilancio dell'occupazione giovanile e della del fenomeno diciamo di riportare i giovani e avvicinare i giovani alla politica ci parli un po' meglio di informa giovani perché so che è un suo cavillo sì 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 io sono praticamente e allora per me l'informa giovani è uno strumento che diciamo dà spazio e voce ai giovani è uno sportello fisico per esempio potremmo utilizzare lo youth center che è a Macchitella e può essere ed è soprattutto uno strumento digitale quindi potremmo creare un'app o addirittura istituire un sito web potrebbe essere addirittura diviso in diverse sezioni c'è la sezione dell'ascolto che secondo me è importantissimo come dicevo poco fa cioè dar voce ai giovani e far arrivare la voce dei giovani direttamente al comune quindi oltre lo spazio fisico lo spazio digitale la sezione della partecipazione dove inseriremo noi tutti i modi in cui entrare a far parte della consulta giovanile o di programmi, riunioni sempre volti alla partecipazione attiva dei giovani poi la terza sezione è la sezione degli spazi ovvero dove saranno inseriti tutti gli spazi a disposizione dei giovani gli aule studio i workshop le biblioteche tutti gli spazi appunto destinati ai giovani e la quarta sezione non per importanza è la sezione delle opportunità lì saranno inseriti tutti i bandi tutte le occasioni di lavoro i stage i tirocini volti ovviamente a un'occupazione giovanile volti ovviamente a dar possibilità ai giovani che magari non hanno possibilità scusate il gioco di parole di occuparsi di politica di occuparsi di istruzione di studio uno degli spazi appunto destinati secondo me importanti a tutto ciò oltre all'Ult Center secondo me è Machitella Lab Machitella Lab è importantissimo importantissimo perché oltre ad essere secondo me volano dell'istruzione secondo me sarà anche volano economico io immagino in Machitella Lab uno spazio co-working di un incubatore di start-up uno dei punti del programma di Terenziano e di tutta la sua coalizione è appunto il sostegno delle start-up con finanziamenti fino a 500.000 euro annui per le migliori start-up appunto oltre a parlare di istruzione bisogna parlare anche di imprenditoria giovanile l'imprenditoria giovanile deve essere supportata perché ti garantisco io sono uno di loro i giovani gelesi hanno tante idee bisogna supportare l'imprenditoria giovanile in diversi modi ma uno di quelli è innanzitutto migliorare la relazione tra il SUAP che è lo sportello unico per le attività produttive e lo spazio in forma giovani e lo sportello in forma giovani il secondo punto è quello di avviare dei meeting periodici tra la giunta comunale e i giovani imprenditori e il terzo punto è quello appunto di dare possibilità ai giovani di avere spazi co-working e spazi appunto fisici per poter lavorare perché non tutti possono permettersi di avere degli spazi e uno di quelli appunto è Macchitella Lab secondo me ovviamente nel programma nel nostro programma in quello di Terenziano Di Stefano ci sono anche altri spazi dedicati ai giovani non solo giovani imprenditori o Macchitella Lab ma c'è anche la biblioteca comunale l'istituzionalizzare un giorno calendarizzare un giorno nell'anno volto appunto a giornata giornata della lettura oppure si parla di piscina comunale si parla di pista d'atletica si parla di affidare l'osservo di Vincenzo Presti alla prima squadra di Gela secondo me sono un po' anche di parte oltre al dissesto quindi si parla di dissesto e quindi si crede che non ci si possa finanziare non si possano spendere soldi però dobbiamo dire che esistono numerosi finanziamenti extracomunali si parla di PNRR che nel 2026 c'è stata di esistere si parla di programma nazionale MetroPlus Gela Vanta assieme ad un'altra quarantina di città di essere rientrata in questo programma ci sono un sacco di finanziamenti purtroppo manca la trasparenza purtroppo manca la comunicazione e quindi non tutti siamo a conoscenza di tutto ciò per questo secondo me è necessario anche creare uno spazio ovviamente magari sempre nello Youth Center quindi come sportello informa giovani dove appunto informare non solo i giovani ma anche la comunità tutti questi finanziamenti perché ce ne sono parecchi purtroppo manca la comunicazione quindi trasparenza e comunicazione secondo me sono i pilastri i pilastri di un'amministrazione comunale sana e democratica so che tiene particolarmente a un punto che è la valorizzazione del patrimonio culturale e so che ha anche delle proposte come si potrebbe rilanciare il patrimonio culturale di questa città allora Gela come tutti sappiamo tutti ci vantiamo perché è un vando per me Gela è una città dal patrimonio storico inestimabile culla del Mediterraneo quindi sia geograficamente climaticamente ma storicamente Gela diciamo non ha niente da invidiare a nessun'altra città bisogna valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Gela il museo conta circa 4.000 reperti ed è chiuso il museo del mare non si sa quando apre le mura di Molontè i bagni greci io immagino un percorso turistico che colleghi tutti tutti questi siti archeologici e turistici immagino post turistici immagino infopoint sparsi per la città infopoint non esiste non esiste neanche uno immagino un'amministrazione comunale che dia valore faccia una programmazione seria programmi eventi Gela non deve essere una città turistica tre mesi l'anno solo perché fortunatamente il mare non ce lo può togliere nessuno altrimenti non avremmo neanche quello purtroppo Gela deve essere una città turistica 12 mesi l'anno dobbiamo calenderizzare eventi dobbiamo snellire la burocrazia dobbiamo il comune dovrebbe patrocinare gli eventi dovrebbe sedersi nei tavoli con le associazioni di categoria che sono tantissime anche associazioni no profit patrocinare eventi programmare eventi snellire burocrazia creare magari uno sportello per le associazioni uno sportello turistico attraverso anche la creazione di un sito web turistico dove poter inserire tutte le informazioni le offerte magari destinate ai turisti in modo che diciamo deve collegare il cittadino alla città il cittadino alla politica il cittadino al consiglio comunale e all'amministrazione ovviamente comunale che gela vede tra dieci anni o immagina meglio dire voglio vedere perché siamo ancora giovani io immagino una gela attrattiva una gela rigenerata dalla periferia verso il centro il centro storico una gela umana una gela più giovane e ho fiducia in Terenziano ho fiducia nella coalizione ho fiducia nei gelesi credo che il nostro progetto sia un progetto fattibile credo morto nel progetto e vogliamo riportare i giovani al voto vogliamo riportare un sentimento di rivalsa contro la passiva rassegnazione che purtroppo è quasi è diffusa è troppo diffusa in tutti non solo giovani giovani e meno giovani secondo me gela migliorerà ne sono sicuro però dobbiamo volerlo tutti come mai ha scelto di scendere in campo in prima persona invece che magari continuare a fare soltanto il proprio lavoro magari osservare dall'esterno le dinamiche politiche invece no ha scelto di scendere nei dettagli di provare la scalata al consiglio comunale spinto da quale sentimento soprattutto la mia non è una scalata fino a se stesso ovvero un cercare di arrivare alla poltrona io voglio rappresentare tutti quei cittadini e tutti quei giovani che purtroppo si sono sentiti troppo spesso trascurati voglio veramente dar voce a tutti io voglio essere le orecchie voglio essere gli occhi ma voglio essere soprattutto la voce ma non solo dei miei elettori la voce di tutti perché Gela è di tutti non voglio vivere di politica ma voglio utilizzare la politica per il cittadino per me stesso e per tutti tutti noi quindi la mia non è una candidatura egoistica la mia è una candidatura collettiva voglio essere portatore dell'interesse comune io come tutti i membri della coalizione tutti i candidati al consiglio comunale e Terenziana in prima persona la sua prima campagna elettorale come è stata come continua qual è il sentimento delle persone che incontrate ogni giorno a Gela nei quartieri e nei luoghi allora la mia campagna elettorale è stressante ma come tutte le campagne elettorali è la prima volta e molti mi hanno anche detto ma chi te l'ha fatto fare da subito magari sai aspetta vedi un po' come farlo la prossima volta e devo dire che vedo che la gente apprezza apprezza l'impegno che ci stiamo mettendo tutti apprezza l'impegno che ci sto mettendo in prima persona e il riconoscimento secondo me sarà il sorriso e il sorriso delle persone che incontro e il sorriso delle persone che mi dicono ma sai mi dispiace non posso votarti però apprezzo quello che stai facendo a me basta questo a me basta dare veramente dare un sorriso alle persone e dare un contributo un contributo per Gela quindi chiunque salirà chiunque riuscirà chiunque diventerà consigliere comunale e sindaco che sarà Terenziano Di Stefano lo voglio dire assolutamente sono sicuro che farà bene per Gela e l'importante è questo tanto affidamento nella figura di Terenziano Di Stefano mi convido molto in Terenziano Di Stefano Terenziano è una persona capace è una persona affidabile è una persona che sa ascoltare quindi sì abbastanza ha avuto modo di conoscerlo meglio l'ho conosciuto meglio e addirittura mi ha dato la possibilità di andare con lui in radio qualche giorno fa non me l'aspettavo assolutamente e questo dimostra che veramente lui valorizza chi valorizza chi merita e valorizza chi si impegna quindi sono fiducioso perché votare Giuseppe Gallo alla telecamera e Terenziano Di Stefano quindi votare Terenziano Di Stefano perché perché è la la figura secondo me più competente e capace di fare il sindaco è una persona per bene è una persona che non è spinta da desideri individualistici è una persona che ha unito tanti partiti eterogenei è una persona che veramente non andrà ad amministrare la città da solo è una persona che andrà ad amministrare la città con tutti i membri della coalizione votare Giuseppe Gallo perché è una persona sincera è una persona che veramente vuole contribuire allo sviluppo di Gela è una persona è un professionista magari poca esperienza a livello politico ma che che lavora sodo e che che pensa di poter far bene in consiglio comunale e il progetto di Giuseppe Gallo non finirà l'otto giugno non finirà questi cinque anni ma è un progetto che andrà avanti più lontano possibile speriamo che gruppo è quello che avete creato in queste settimane se ti vuoi parlare di coesione di unione anche un bel clima ce lo confermo esatto esatto no no devo dire che siamo un gruppo coeso un gruppo unito parlo degli autonomisti per Gela sono di parte ma è un gruppo di persone per bene è un gruppo di persone che non ha desideri individualistici un gruppo di persone che non vive di politica questo è importantissimo è un gruppo di persone che veramente lavoriamo uniti chiunque salirà di noi non si sa quanti seggi saliranno 24 seggi non possono non possono scattare purtroppo però chiunque rappresenterà autonomisti per Gela siamo sicuri che lavorerà per il gruppo lavorerà per la città quindi questa è la cosa più importante c'è sicuramente da sconfiggere la piaga dell'astenzionismo lo abbiamo detto prima tanti giovani non si vogliono neanche recare a votare e quindi un altro appello alle telecamere di eda communication rivolto a loro esatto non lasciate che siano gli altri a decidere per voi questa è una frase che avete sentito dire diverse volte spesso ma è la pura e semplice verità andate a votare qualsiasi esso sia il voto qualsiasi esso sia il sindaco il consigliere scegliete voi quello che per voi è il meglio per voi per la città e per l'intera comunità tra tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato ce n'è uno a cui tiene particolarmente che svilupperebbe l'indomani della sua elezione in consiglio comunale insieme alla coalizione innanzitutto allora mi preme dire che non ho parlato di tanti altri temi che sono nel programma di Terenziano Di Stefano che potete consultare sul sito www.terenzianodistefanosindaco.it si parla di tematiche sociali che sono importantissime supporti psicologici disability manager si parla di tanto altro purtroppo il tempo non è stato non ha giocato a nostro favore quello che innanzitutto mi preme molto è oltre alla trasparenza la partecipazione la partecipazione dei giovani riportare i giovani riportare entusiasmo ai giovani quindi voglio migliorare la comunicazione quella sarà la prima cosa il sito istituzionale deve essere creato assolutamente deve essere sviluppato e dobbiamo riportare entusiasmo quindi la prima cosa che farò è questo riportare entusiasmo e poi chiaramente immagino continuare a incontrare come ha detto prima assolutamente riunioni rafforzare il gruppo certo certo inviterò anche te alle nostre riunioni volentieri 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 perché Terenziano Di Stefano è la persona giusta per affrontare le sfide che questo territorio porrà nei prossimi anni e sono e sono tante e sono importanti perché Terenziano Di Stefano ha un gruppo coeso è importantissimo governare una città con un gruppo coeso alle spalle è un leader a cui noi diamo fiducia quindi Terenziano ha tutta la fiducia della sua coalizione quindi riteniamo che un condottiero con la fiducia dei propri guerrieri secondo me sarà è un progetto vincente mamma papà o non so se ha fratelli o sorelle sì sono il primo di cinque figli quindi ho tanti marmocchietti da non le hanno detto ma chi lo fa sì soprattutto soprattutto vedendomi invecchiare giorno dopo giorno perché in pochi mesi diciamo che la mia salute psicofisica è andata mi sta mi sta mi sta mi sta facendo guai ormai manca poco esatto manca poco ma non manca poco perché manca poco all'otto giugno al nove giugno ma ne ho distratta da fare perché ripeto o a cuore o a cuore gela quindi non è un percorso che finirà l'otto e nove giugno il mio stress andrà avanti ancora finisce invece così anche questa puntata di conosciamo i candidati io vi do appuntamento alla prossima una produzione eda communication and events questo programma è stato offerto da sei un professionista o è un'azienda di prodotti e servizi vorresti un sito internet bello e ottimizzato con un design unico con eda communication raggiungere i tuoi obiettivi è più semplice realizziamo chiave in mano in pochi giorni siti vetrina e commerce blog e app personalizzate cosa aspetti contattaci www.edacomunication.it la tua vetrina digitale a portata di tutti segui eda communication su facebook instagram youtube www.edacomunication.it www.edacomunication.it www.edacomun utilizedi.it www.edacomun klassi.it